Quindi la giustizia, giustizia e verità nel Vangelo, la giustizia e la verità che il Vangelo ci porta è la reale e fondamentale natura della nostra vita e di come funziona, perché se noi stiamo dentro un gioco che si chiama vita, esistenza, e non sappiamo come funziona, noi andremo incontro a gravissime sofferenze, a insuccessi, perché non sappiamo come funziona lo strumento vita. Siccome siamo vivi abbiamo per forza necessità di sapere come funziona. Siamo l'unico elettrodomestico che esce dalla fabbrica senza il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni si chiama Vangelo. Non c'era stato detto, ce l'hanno nascosto, ovvio, perché nel momento in cui la Chiesa si corrompe in quanto istituzione vaticana e i principi della Chiesa incominciano a mettere in piedi traffici di ogni genere e tipo e sono secoli che vanno avanti con quest'andazzo, è ovvio che il gregge deve rimanere ignorante perché un gregge saggio non è più un gregge. Un gregge saggio non lo puoi controllare. Invece che inglesi, francesi, tedeschi, italiani, sapete quanti italiani ci sono nell'Isis? Perché sono pagati bene. Gli hanno dato le Toyota, centinaia di Toyota. Ma vedendo quelle immagini, che dubbio, non ci viene? La Toyota, l'Isis ha scelto la Toyota, poteva essere un brand pubblicitario. Il bello è che queste cose della Toyota non è che si sanno chi gliel'ha dato. No, no, si sa, si sa. Il fatto dei pick-up a Toyota non si sa chi gliel'ha dato, no? Era così. Poi mi pare che si è scoperto che sono stati gli stati canaglia, come Saudi Arabia e Qatar. Il Saudi Arabia è il miglior alleato degli Stati Uniti e non è stato canale. Attraverso una sezione del Dipartimento degli Esteri del Foreign Office inglese, il Ministero degli Esteri. Attraverso il Ministero degli Esteri inglese, coi soldi dell'Arabia Saudita, paese fratello gemello degli Stati Uniti d'America, con la quale si sono inventati la grande bufala dell'OPEC e del petrodollaro con cui l'America ha risucchiato dal 1971 a oggi, ci ha risucchiato dalle tasche una marea di soldi, vendendo cartaccia verde. Sono un sacco di cose che non conosciamo, amici. Quindi la legge di causa ed effetto determina il flusso di eventi che giunge a compimento questo flusso di eventi, che è un progetto ben preciso, che riguarda tutto il genere umano, con la seconda venuta di Cristo. La legge di causa ed effetto opera nel tempo. Quindi noi non abbiamo, da quando Cristo è venuto fino a oggi, non avevamo una sola vita a disposizione, ne avevamo varie. Gli orientali la chiamano reincarnazione, al che i cattolici si strappano le vesti e dicono «Ah, eresia, non c'è la reincarnazione nel cristianesimo, ma chi l'ha detto?» Facciamo un po' di storia. Uno dei grandi padri della Chiesa, origene, fino a 300 anni dopo Cristo, si insegnava la reincarnazione, cioè la preesistenza dello spirito dell'uomo, prima dell'incarnazione. Quindi nel Vangelo noi non troviamo la parola reincarnazione, ma c'è. Basta andare a leggerci i passi del Vangelo. E ce ne sono, c'è un personaggio in particolare, poi ritornerò a quel passo dell'orto del Gessemani, che riguarda un personaggio molto importante che è il profeta Elia. Il profeta Elia, dall'Antico Testamento fino alla seconda venuta di Cristo, gioca un ruolo molto importante. Quindi l'avvenuta di Elia, la manifestazione di Elia nella società terrestre, marca dei momenti storici molto importanti. E il primo ente, o il primo personaggio che parla della reincarnazione di Elia non è nemmeno Gesù, è un arcangelo, che è l'arcangelo Gabriele. Perché l'arcangelo Gabriele enuncia questo fatto prima ancora che Cristo nascesse. Appare nel Tempio al sacerdote Zaccaria, il sacerdote anziano di Israele, e gli annuncia che avrebbe avuto un figlio. Zaccaria e sua moglie erano una coppia sterile. E Zaccaria chiedeva a Dio la grazia di un figlio, però ormai a furia di pregare si era fatto vecchio, sia lui che sua moglie. E mentre ufficiava nel Tempio, gli appare l'arcangelo Gabriele che gli dice non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande né brianti, sarà pieno di Spirito Santo fino dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia. Quindi, Gabriele dice a Zaccaria, ci avrai un figlio. Quel figlio è Elia che ritorna, ma lo chiamerai Giovanni. Quindi Elia si reincarna in Giovanni Battista. Poi Zaccaria non gli crede, dice ma io sono vecchio, mia moglie pure. L'angelo si incavola perché dice io sono Gabriele che sta al cospetto di Dio, non mi hai creduto, ti punisco e lo fa rimanere il muto per nove mesi, fino a che non nasce Giovanni Battista, che era Elia. Elia era morto 400 anni prima, quindi non due giorni prima, quattro secoli prima. E il fatto che Giovanni Battista fosse Elia viene reiterato nel Vangelo, Matteo capitolo 11, versetto 12-14. Ora dai giorni di Giovanni Battista, quindi siamo in un momento in cui ormai Erode, per colpa di Erodiade, ha tagliato la testa al Battista, San Giovanni decollato, cioè gli hanno tagliato il collo. E dice Cristo, ora dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza, i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profetti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Quindi Cristo conferma che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia e viene ripetuto ancora quando Cristo chiede ai Suoi Apostoli chi dite che io sia? Ora, ascoltate bene le risposte che danno gli Apostoli. La gente dice che alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista che era appena morto, altri dicono che sei Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Ora, in una società che non conosce la reincarnazione, mi spiegate come fa la gente a dire che Gesù era Elia, Geremia o qualcun altro che era già morto? Quindi è ovvio che la conoscevano. Infatti la reincarnazione dal cristianesimo viene abolita per atto politico dal Vaticano nel momento in cui Costantino fa del cristianesimo la religione di Stato. Consiglio di Nicea, 300 e rotti anni dopo Cristo. Poi siccome ancora persisteva questa credenza nella reincarnazione nel mondo cristiano, si rifà un altro concilio nel 500 e rotti a Costantinopoli e viene di nuovo dichiarato anatema la credenza nella reincarnazione. Un concilio dove l'imperatore Giustiniano, che era un imperatore sanguinario, impone questo anatema e il Papa Virgilio, che non voleva ratificarlo questo concilio, si nasconde in una chiesa e quindi nel concilio dove si ratifica nel 500 d.C. di nuovo l'abolizione della reincarnazione, non c'era manco il Papa. Quindi figuriamoci come siamo combinati. Quindi noi non solo non conosciamo la storia del Vangelo, conosciamo anche la storia della nostra Chiesa. È un dato di fatto. Sapete da dove nasce il termine conclave? Chi lo sa? Allora, nel Medioevo, l'ambiente vaticano era molto più libertino, quindi i vescovi, i cardinali, i papi, avevano tutto il loro codazzo di amanti, maschi e femmine che fossero. Quando si riunivano per eleggere un Papa, andavano in un'altra città e quella città era obbligata al vittuo e all'alloggio. Solo che quando questi andavano a fare la riunione per eleggere il Papa, si portavano tutto il loro codazzo, diamanti, amici, cugini, eccetera, eccetera, e finiscono in quel di Viterbo. Entrano in questo castello, in questo edificio, passano i giorni, questi mangiavano, bevevano, ne combinavano di ogni, e il Papa non veniva fuori. Il popolo, stanco di nutrire i bagordi di questa gente, cosa fa? Inchioda tutte le porte, scoperchiano l'edificio, quindi lì lasciano alle intemperie, e gli dicono, ma fino a che non eleggete il Papa, da qui non uscite. Cioè, sono stati inchiavati. Bello, no? Conclave, sono stati chiusi a chiave, gli hanno chiusi i portoni e scoperchiato il tetto. Quindi, di nuovo, emerge dal Vangelo il concetto di reincarnazione. Matteo, capitolo 17, versetto 10. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista. Quindi Cristo stesso dice che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia. Addirittura, nell'Antico Testamento c'è la profezia, siamo a Malachia, 4, versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore. Giorno grande e terribile. ovviamente stiamo parlando del giudizio universale. Quindi Elia è il precursore della prima venuta di Cristo ed Elia è il precursore della seconda venuta di Cristo. Cioè si reincarna nel momento in cui deve svolgere questa funzione. Quindi ha profetato, poi si è incarnato per far compiere la profezia, la prima e poi pure la seconda. Quindi il Vangelo contiene queste cose, ma noi non lo sappiamo perché non ci viene spiegato, noi non lo leggiamo, quindi non conoscendolo non ci possiamo opporre delle domande perché di fronte a enunciazioni di questo tipo io qualche domanda gliela faccio, gliel'ho fatta, non mi hanno risposto, mi sono andato a cercare le risposte. tutto questo discorso quindi del giudizio universale che si svolge attraverso le nostre reincarnazioni che sono governate dalla legge di causa ed effetto. Quindi Cristo, Dio, dà a Mosè nell'orto, scusate, nel Sina e gli dà il decalogo non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non adulterare, eccetera, eccetera. poi viene Gesù, conferma questa legge e richiarisce bene le cose perché nell'Antico Testamento c'è molta confusione perché c'è Dio che dice non uccidere e poi dice vai ammazza tutti. Insomma c'è un po' di caos che va capito che cosa è successo. Quindi viene Gesù per rimettere ordine nella legge e chiarire bene tutte le cose e preparare nell'arco di duemila anni l'umanità che si sarebbe reincarnata col suo insegnamento prepararla alla sua seconda venuta al giudizio e all'integrazione cosmica. Cioè si aprono i cieli e l'umanità capisce che non è mai stata sola e che la vita è governata da leggi a cui noi possiamo anche decidere di non obbedire ma questo comporta una serie di ripercussioni spaventose nella nostra esistenza. Oggi le ripercussioni sono talmente gravi e di vasta portata che il nostro pianeta di fatto sta morendo mentre noi allegramente continuiamo a impazzire e a folleggiare coi nostri concetti umani tipo il gender. Adesso no, bisogna insegnare ai bambini che maschio o femmina è la stessa cosa. Ecco, quindi Satana in questi cento anni di potere che gli sono stati dati ci ha fatto a pezzi nonostante l'insegnamento fosse sempre lì nel libro della conoscenza. Ci sono film, serie televisive dove si parla di questi mitici libri nascosti chissà dove che c'è il libro del potere il libro della grande conoscenza. è a casa di tutti non è in nessun tempio segreto in nessun covo atlantideo nascosto chissà dove è lì il libro della conoscenza del potere si chiama il Vangelo perché rimette nelle nostre mani lo ripeto tutto il potere e la sapienza necessaria per prendere in mano il nostro destino e portarlo a compimento in un progetto che non è nostro è un progetto di Dio che l'umanità entri nell'era cosmica cioè si integri con le società umane le società umane non siamo noi noi siamo una società disumana bestiale che vive secondo la legge della giungla le società umane sono quelle che vivono con il valore non della competizione ma vivono con il valore solidario della solidarietà non a caso noi le chiamiamo azioni umanitarie quindi fino a che un essere intelligente non vive in modo umanitario non è un essere umano non è una società umana è una cozzaglia grazie è una cozzaglia di dementi criminali o complici di criminali che devastano in maniera assurda e spaventosa il loro mondo rendendolo il mondo e la società invivibile così come lo è giorno dopo giorno il nostro mondo e la nostra società vi ricordo che nel intorno al 2012 l'allora segretario di stato delle Nazioni Unite Kofi Annan ha creato una commissione di scienziati 1500 per avere la verità sul riscaldamento climatico perché ci sono due fazioni una dice che è vero una dice che è falsa quelli che dicono che è falsa sono tutti pagati dalle multinazionali che non vogliono interrompere i loro circuiti di guadagno intanto adesso avete saputo la notizia sulle Dolomiti non c'è neve manca un fiocco sono secche a secco completo non era mai successo secco completo Catania Palermo c'è la neve sulle Dolomiti non c'è neve un fiocco a gel alicata ecco quindi le nostre azioni hanno provocato una situazione spaventosa che ci piaccia non ci piaccia ci crediamo non ci crediamo è così causa effetto altra notizia importantissima che ci dà Cristo è l'esistenza degli extraterrestri e ce lo ridice in quel passo infatti gli dice a Pietro ma se è inutile che ci provi tu a liberarmi con lo spadino perché io sono un capo militare dice il Signore pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli ora il termine legione non è un termine palestinese israeliano è un termine romano e Cristo usa un termine romano militare nel momento in cui la Palestina e il popolo di Israele è schiacciato dal tallone di ferro delle armi di Roma quindi Cristo dice io ho le mie legioni basta che le chiedo e me le manda subito se voglio essere liberato è ovvio che siccome Cristo è circondato da guardie armate di spade di metallo non sta parlando di spiriti eterei sta parlando di gente solida che ha gli strumenti e la forza di liberare il Signore da queste guardie quindi Cristo dice io ho le mie legioni e poi dice a Pilato il mio regno non è di questo mondo quindi Cristo è un capo militare che ha legioni tra virgolette armate o che comunque hanno un potere anche militare ma non sono di questo mondo cioè enuncia la verità cosmica che lui è il re comandante di queste legioni che lui può chiamare quando vuole quindi Cristo annuncia l'era cosmica perché ribadisco che questo flusso di eventi legati alla legge di cause effetto al dare e all'avere delle azioni dell'umanità crea una selezione quindi quando Cristo torna come giudice non è che inizia a spulciare la nostra vita lui prende solo atto di quello che abbiamo fatto quindi il giudizio non sarà quando Cristo viene quando lui torna c'è la sentenza il giudizio è adesso perché ancora siamo nella fase di scelta diciamo siamo in questo momento nell'istruttoria ma quando Cristo come giudice viene lui dà la sentenza tu sei buono tu no fa quella che lui stesso dice la separazione del grano dalla gramigna il grano è quello che ha prodotto frutto la gramigna è quella che ha distrutto poi ce ne sono una marea di passi del Vangelo che parlano di questo volevo tornare un attimo sulla reincarnazione perché Cristo lo dice chiaro a Nicodemo Gesù rispose in verità in verità ti dico se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio il corpo di un bambino è fatto al 95% d'acqua quindi parla della materia e poi glielo dice non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo poi il prete può dire sì ma significa l'acqua del bantesimo quello che vuoi tutte queste cose bisogna metterle in fila perché prese una per una possono anche essere distorte e manipolate quindi Cristo annuncia un'era cosmica di angeli parola greca che significa messaggero l'angelo non nasce col cristianesimo la società ellenica aveva il loro angelo si chiamava Hermes che diventerà il mercurio dei romani Hermes era il messaggero degli dei quindi gli angeli angelo non vuol dire uomo con le ali angelo vuol dire qualcuno che ti porta un messaggio e questi esseri vengono e fanno delle cose nel momento del giudizio ecco un altro bellissimo dipinto di Bruce Pennington Matteo 24 versetto 31 il rapimento della chiesa ed egli manderà i suoi angeli quindi quelle legioni di cui Cristo parla a Pietro le manda a raccogliere gli eletti dai 420 da un'estremità dei cieli all'altra cioè da tutto il pianeta questi angeli vengono a prelevare gli eletti e si chiama rapimento della chiesa o ratto salvifico quindi questi angeli hanno dei mezzi e la capacità di prelevare dei corpi fisici e portarli dove ce lo spiega no ce lo spiega una lettera di Paolo dove dice che gli eletti si sarebbero incontrati col Signore nell'aria quindi sta parlando oggi in epoca moderna la possiamo dire di una avviazione sempre in Matteo vedete quando Cristo dice come fu ai giorni di Noè così sarà l'avvenuta del figlio dell'uomo quindi Cristo torna in un immane disastro globale e dice e sarà come ai giorni del diluvio mangiavano bevevano prendevano moglie e marito fino a quando Noè non entrò dell'arca non si accorsero di nulla fino a che venne il diluvio e inghiottì tutti così sarà anche all'avvenuta del figlio dell'uomo dell'uomo quindi ci sarà una catastrofe globale ma prima che la catastrofe fagociti anche gli eletti gli angeli li prelevano e Cristo dice allora due uomini saranno nel campo uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno alla mola una sarà presa e l'altra lasciata cos'è che determina il fatto di essere presi o lasciati quello che noi abbiamo compiuto in vita e vengo alla figura di Giorgio Bongiovanni di Giorgio